La lessicografia, cioè quel ramo della linguistica che si occupa di raccogliere, di analizzare formalmente, di definire semanticamente il lessico di una lingua, è da sempre profondamente connessa alla filologia. La relazione fra le due discipline è tuttavia complessa e ha nel tempo animato molti dibattiti. Da un punto di vista puramente operativo sembra condivisibile e direi quasi scontato pensare che l'attività lessicografica debba seguire proprio in termini logici e cronologici quella filologica. Sembra infatti ragionevole che il lessicografo cominci a spogliare un testo, a trarne cioè i vocaboli da analizzare, solo quando questo stesso testo risulti ormai stabilito dal filologo in via definitiva. Insomma, come si suole dire, il lavoro dell'essicografo comincia dove finisce quello del filologo. Eppure è altrettanto evidente un altro fatto, e cioè che un vocabolario è uno strumento di supporto indispensabile all'attività filologica. Naturalmente stiamo parlando di vocabolari storici che si occupano di descrivere il lessico di una lingua a partire dalle sue prime fasi di sviluppo sulla base naturalmente della documentazione storica disponibile. È chiaro infatti che nel caso in cui il filologo si trovi a dover scegliere fra due lezioni equivalenti, perfettamente interscambiabili sul piano stemmatico e ugualmente soddisfacenti sul piano del senso, disporre di indicazioni linguistiche mirate acquista un peso importante. Un vocabolario storico infatti può fornire al filologo un quadro completo sulla funzione grammaticale, sul valore semantico e sulla disponibilità di una parola in un determinato periodo. In altri termini la lessicografia può illuminare il filologo sulla attendibilità, sulla effettiva plausibilità di una lezione rispetto a un'altra e può senz'altro consentirgli anche di identificare con maggior rigore la lezione più rara e difficile. Ecco allora che si entra inevitabilmente in quello che Giorgio Pasquali, in un celebre contributo intitolato per un tesoro della lingua italiana, ha definito un circolo vizioso. In questa relazione lo studioso notava come l'assenza di buone dizioni critiche paralizzasse il lavoro delle lessicografie e viceversa l'assenza di opere lessicografiche ben documentate rendesse incerto quello dei filologi. Scrive Pasquali, non è un vocabolario storico appunto il sussidio più necessario per pubblicare adeguatamente i testi? Ci troveremo, sembra, chiusi in un circolo vizioso. L'esperienza insegna che in tali condizioni va un solo mezzo di uscirne, spezzarlo. Si incomincia il vocabolario e con ogni probabilità si ridesterà l'interesse fecondo per i testi e per la sfera della lingua e le dizioni aumenteranno di numero e di valore di anno in anno. Oggi possiamo dire che questo circolo è effettivamente diventato virtuoso. Grazie al progressivo avvicinamento e alla sempre più proficua collaborazione delle due discipline. È esemplare in particolare il caso del Tlio, il tesoro della lingua italiana delle origini. Fondato da Pietro Beltrami e dotato sin dal principio di un ufficio filologico, attento proprio alla selezione delle dizioni critiche e al loro costante aggiornamento. Il Tlio è infatti un vocabolario storico dedicato all'italiano antico e basato su tutta la documentazione disponibile, dal primo documento che possa dirsi italiano, seppur in modo dubitativo, cioè l'indovinello veronese dell'inizio del nono secolo, per arrivare ai testi di fine Trecento. Il termine simbolico, poiché si oltrepassa liberamente, è il 1375, anno di morte del Boccaccio. Fra gli aspetti più innovativi del Tlio c'è sicuramente la sua natura digitale, una caratteristica che ha avuto sin dalla pubblicazione della sua prima voce avvenuta nel 1996, la voce Abaco, e una caratteristica che ha consentito all'opera di offrirsi come una risorsa in continua espansione, in continuo aggiornamento. Qualcosa certamente di impensabile fino a pochi decenni prima. Via via che si rendono disponibili delle edizioni critiche più affidabili, infatti il corpus testuale di base del Tlio si modifica e le voci, che sono redatte appunto in forma digitale e liberamente consultabili in rete, si aggiornano in virtù delle nuove risorse bibliografiche e dunque finalmente un circolo virtuoso. Il Tlio è però un vocabolario dei giorni nostri che si avvale indubbiamente di strumenti nuovi e avanzati. Se si guarda molto più indietro, arrivando agli albori della nostra l'esperienza lessicografica, si scoprirà che la questione filologica è già ben presente. Anzi, è possibile dire che la relazione fra lessicografia e filologia sia proprio un tratto congenito e distintivo della nostra lessicografia storica sin dagli origini. Quando gli accademici della Crusca iniziano a progettare il loro vocabolario intorno al 1590-1591 si interrogano a lungo su quali dovessero essere le edizioni o in assenza i manoscritti sui quali condurre lo spoglio lessicale. Un problema capitale in particolare era rappresentato da Dante, che gli accademici considerano il cardine del loro modello linguistico identificato con il fiorentino trecentesco, il fiorentino aureo. Della commedia in particolare gli accademici non trovano un testo pienamente soddisfacente fra le numerose edizioni disponibili. Ebbene non tutti sanno che proprio la primissima fatica portata a termine degli accademici non fu il vocabolario che uscì nel 1612 ma proprio un'edizione della commedia di Dante pubblicata nel 1595 con il titolo La divina commedia di Dante e Lighieri, nobile fiorentino, ridotta a miglior lezione dagli accademici della Crusca. Nella premessa ai lettori, Bastiano De Rossi, uno dei fondatori dell'accademia e coordinatore, in un certo senso, delle sue prime imprese, esalta il ruolo linguistico di Dante e giustifica l'edizione appena pubblicata mettendola proprio in correlazione diretta con il progetto del vocabolario. Il divin poema è infatti la miglior parte, scrive Bastiano De Rossi, e la principale della nostra favella, cioè della nostra lingua. E per poter costruire un vocabolario di tale favella era dunque indispensabile poter disporre di un'edizione corretta e affidabile dell'opera dantesca. Non trovandola gli accademici ne allestiscono una ad hoc, sanata il più possibile almeno dalle piaghe della tradizione e pronta a servire l'impresa lessicografica. Il lavoro filologico dunque è come premessa irrinunciabile al lavoro lessicografico. L'edizione della Commedia del 1595 è significativa anche sul piano metodologico, tanto che è stata definita il primo tentativo moderno di edizione critica. Sono parole di Gianfranco Folena. Per restituire un buon testo infatti gli accademici collazionarono, cioè confrontarono, oltre 40 copie manoscritte del poema, non tutte oggi identificate, più numerosi testi a stampa. Inoltre annotarono le lezioni alternative e scartate nei margini delle pagine, andando a costruire una sorta di primitivo apparato critico disposto proprio lateralmente anziché in basso come accade nelle edizioni critiche moderne. Nei secoli successivi l'Accademia della Crusca ha continuato a dimostrare un'apertura e un'attenzione crescenti nei confronti del problema filologico. È tuttavia nel corso del Novecento che il rapporto fra lessicografia e filologia comincia a collocarsi in un quadro teorico più maturo e decisamente più articolato. La lessicografia non soltanto arriva a riconoscere l'importanza di lavorare su edizioni filologicamente attendibili, ma intuisce anche il valore potenziale degli apparati di tale edizioni. Gli apparati cioè dove sono relegate le varianti appunto con le forme alternative tramandate dalla tradizione che il filologo dopo un'attenta valutazione ha scartato. Quindi in un certo senso tutto il tavolo da lavoro del filologo contiene materiale prezioso per il lessicografo, anche almeno in un certo senso quello di scarto. A incoraggiare la lessicografia verso questa nuova attenzione alle varianti è stato per esempio Giovanni Nincioni, presidente dell'Accademia della Crusca fra il 1972 e il 2000. In un intervento del 1960 in particolare lo studioso si sofferma proprio sulla variante e sul ribaltamento del suo ruolo da oggetto di scarto a oggetto di studio sotto la lente del lessicografo. Laddove infatti il filologo vede dei guasti del testo tradito, lo storico della lingua e il lessicografo vedono una testimonianza preziosa della lingua del copista e dunque un importante tassello nella ricostruzione della cosiddetta lingua collettiva, cioè come scrive Nincioni, dell'uso linguistico del tempo e del luogo dove il manoscritto fu copiato. Negli apparati insomma possono nascondersi attestazioni preziose di una forma ma anche di un uso linguistico o di un'accezione che altrimenti potrebbero rimanere non documentati. Sul piano concreto però la realizzazione di un vocabolario storico filologicamente aggiornato e in più aperto alla variantistica di interesse linguistico è un'impresa tutt'altro che banale, se non altro per l'enorme mole di materiale da valutare. In tempi recentissimi questo approccio lessicografico aperto è stato sperimentato in un ambito filologicamente molto complesso ma tutto sommato circoscritto. Mi riferisco in particolare al vocabolario dantesco, il progetto avviato nel 2015 dall'Accademia della Crusca in collaborazione con l'opera del vocabolario italiano. Il vocabolario dantesco è una risorsa interamente digitale e le voci già pubblicate sono liberamente consultabili in rete all'indirizzo www.vocabolariodantesco.it. Si tratta di un vocabolario che lavora entro, dicevo, un ambito circoscritto e questo perché è limitato alla lingua di un autore, è di fatto un vocabolario della lingua di Dante, ma è anche uno strumento costruito su un materiale testuale filologicamente complesso e questo perché, come a tutti noto, di questo autore in particolare noi non abbiamo neppure un rigo autografo. E la tradizione della sua opera principale, cioè la commedia, è fra le più ricche e tormentate dell'intero mondo romanzo. Il vocabolario dantesco che ha dato il via ai lavori proprio a partire dal poema ha dunque messo a punto dei criteri lessicografici nuovi capaci di integrare anche questo aspetto filologico, in particolare di integrare le varianti, le lezioni alternative che scaturiscono dalla tradizione che risultano linguisticamente interessanti. Gli strumenti lessicografici di questo tipo, ibridi in un certo senso, consentono sicuramente un notevole allargamento della prospettiva di ricerca sia per i linguisti sia per i filologi. Altrettanto evidenti risultano poi i vantaggi dati dalla natura digitale dei simili risorse, la quale consente un'implementazione continua dei dati e un loro aggiornamento pressoché immediato. Insomma in altri termini proprio quella circolarità virtuosa che si auspicavano con visionario entusiasmo i maestri della lessicografia e della filologia del Novecento.